ciao ehi bellissima forza ci siamo ci siamo l'avevo detto io adesso facciamo una scenetta di un bar questa finestra ci sono la porta ecco un'altra finestra vedi un ucce di finestra pure qua tranquilla è difficile essere sporca e vivace gli fa una botta così c'ho una parola magica io sta un po' più là se non ti smerdi gli schizzi di colore quando senti gli schizzi vedi se interessa io ero in germania stavo a fare un quadro è arrivato uno un ragazzino fa frischi anch'io e senza alzare manco l'occhio ho detto tu parli tedesco ma per me non può essere un deutsch tu sei italienico e perché parli tedesco sono nato qua allora siete napoli no si ho detto napoli o pari eccetera perché gli ho detto che in due miliardi di anni luce nessun tedesco si permetterebbe mai di fare quel gesto di metterlo dito lucesse di dito sullo stielo ma smerdato tutto lo stile è freschi questo a freschi è bello tre anni dopo per a fare i corsi con me adesso dicono sulla ramblas c'è napoletano che dice tutto meno dio in tre minuti e lo maestro mio è mancino capito perché un giorno mi dissi una cosa bellissima tu quando fai i quadri è come la pizza tu fai la pizza come la pizza solo che la la pizza bisogna abbastare la farina tu abbastare i colori e io mi sentivo lo napoletano che bello che è fatto non ti perdere il mondo dei tuoi tosi dei troisi si vede piano piano dai ecco fatto la carta è classificata si trova in tipografia l'orullo si trova in ferramenta gli levi la spugna al giorno dopo anno se sei secca ci metti la gomma e te vi è questo risparmi 15 euro così mi può comprare un quadro no eccetera manco i cani ma la vendita qui a piene pescini menti quest'anno non sono riuscito a fare la fiera dei cagliari ecco che arriva l'intonaco marcio vedi i muri fatiscenti è finito ecco in terra che arriva qualche raggio di luce si vede la città piano 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 ci stanno le barchette ecco che arrivano le mansarde le finestre ecco la porta se fai la porta si vende sto cacchio di guardare poi ci fai le scalette queste spingano la vendita si vede piano piano poi ci metti le barche il villaggio dei pescatori vieni qua si metti le farcuncini quando vado a te l'ali si non mi ricordo che stava a farlo a barca a barca ti metti qua sfarmi la nutella devi a la barca dice quello non è una barca in cesso allora ne fai un'altra di fianco dai no fammela tutta intera 1 2 3 pop e prua qui è la barca però la devi staccata sotto si vede la barca adesso ma rifammo a rallent questa magari vi è scappata allora facciamo la barca qui la stanno stanno ammazzando c'è il tumore o la stanno ammazzando c'è il tumore o la stanno ammazzando c'è il tumore o la stanno ammazzando porco giù un casino l'italia che bel paese che è vai a barche o aranda si vede aranda aspetta la capoccia poi gli lasci due millimetri vicino alla capoccia non ti dimenticare vai su ma è costata 5 mila lire sta lezione al napoletano ti sorriendo ha fatto se mi fai vedere come fai l'omino te regalo 5 sacchi ho visto che il principale 2 coro tutto verso il bar da come corre quello che ha accesso quindi ci impiega un quarto d'ora prima che arriva mi fa se mi vede mi ammazza mi ha fatto vedere la capoccia ha staccato dei 2 millimetri e io tutta la vita ringrazio il napoletano a voi la lezione la dò gratuita ci siamo di nuovo torri fama ralenti a capoccia funziona sempre vai gira un attimè dai la botta forza che la zampetta ecco se vede dai che scherzo e se gli faccio la camicia bianca si confonde la bar ecco qua un po sportiva la vela procellosa da l'idea dell'omare non è venuta manca a piangere è finita è barca a fila ecco l'archetto qua ci siamo c'è anche il lampionazzo se fa il lampione si vende è una ragazzina che era qua dopo 3 ore il papà fa dai di più il gelato basta se ne sei innamorata la ragazzina sai che gli ha detto prendi il gelato e portami qua è la sua divina tragedia anche lei ci ho messo è finita hai capito che stronzata lo fa tutti i paesaggi di napoli di dove siete capito dice come se farsi ai palazzi no i muri vai lang sam lang sam è finito eccola è da lontano è meno cesso io quando lo faccio da vicino chiamo cesso un quadro attento te smerdi tu la professoressa ma peccato lei è un genio parla così io provo a dire si discorre che c'è una panoramica del pubblico questo è il quadro e anche